questo è il punto dove siamo portati le due spalle e subito dopo la capitolia dunque tutto torna tu fanno sempre delle esse perché si confondono i rumori quando sono sotto terra per poter riorganizzare la squadra è più che valida come cosa quello vedi come chiaro è sempre il soffitto per andare a dare perché tutto è stato modificato e poi rimane sempre andrà a fare un soffitto lì dovrete ruota un cambio di mano diventa quadrato nel taglio dietro dice sono da fare foto e ma ci vanno le luci non puoi sbagliare sentendo dei rumori che abbiamo visto da dove poi eccoci sono buona adesso adesso c'è un acquedotto nuovo secondo me questa è la parte meglio i givelli sono i pato a quepark devo vorrete bene ok 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 ok